Altri 25 casi positivi al Covid-19 in Abruzzo registrati nella giornata odierna. Il dato si basa su un totale di 1.157 tamponi analizzati, pari al 2,2%, in leggero aumento. Nella giornata di ieri, infatti, i positivi erano stati 22, su un totale di 1.400 tamponi analizzati, 1,6%. I nuovi casi fanno salire il computo complessivo nella nostra regione a 3.072, dopo i test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, nell'Istituto Zooprofilattico di Teramo e nell'Università di Chieti. 263 pazienti, meno 22 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 12 più 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 1.495, dato invariato rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 348 pazienti deceduti, più 7 rispetto a ieri, 954 sono invece guariti, più 39 rispetto a ieri, di cui 228 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 726 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 45.021 test, di cui 39.700 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 243 si riferiscono alla ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 767 alla ASL Lanciano-Vastocchietti, 1.421 alla ASL di Pescara e 641 alla ASL di Teramo. Per quanto riguarda i 25 casi di oggi, invece, si riferiscono 1 alla ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 3 alla ASL Lanciano-Vastocchietti, 21 all'ASL di Pescara e nessuno all'ASL di Teramo.